Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca Capra, sono il vice direttore dell'area incubazione startup di Trentino Sviluppo, vi do il benvenuto. Oggi presenteremo una cosiddetta pitch battle, quindi avremo sette startup, alcune più esperienziate e alcune invece più recenti che si presenteranno davanti a voi e davanti a una commissione che ora vi presenterò, con presentazioni di 5 minuti in cui vi racconteranno sostanzialmente cosa stanno facendo per divenire delle future startup vincenti, dopodiché avremo 5 minuti di domande da parte della commissione, suggerimenti della commissione e anche il pubblico se avrà a intervenire il benvenuto. Alla fine dell'evento, dopo tutte le presentazioni, faremo anche una votazione online per stabilire il giudizio del pubblico e poi la commissione invece stabilirà la startup che li ha convinti maggiormente da un punto di vista di business plan, business model e potenzialità per il futuro. Adesso vi presenterei la commissione prima di partire con le presentazioni. Abbiamo quattro giurati, abbiamo in primis presento la rappresentante femminile nella giuria, la dottoressa Linda Pisani, giornalista, quindi anche le startup mi raccomando avete un giornalista in giuria, quindi fate bella figura. Dopodiché abbiamo due rappresentanti del club Trentino degli investitori, che è un club che abbiamo costituito come Trentino Sluppo un annetto fa, che conta già circa 60 investitori che vogliono, cercano startup interessanti in cui investire. Abbiamo in particolare il dottor Ivo Contursi, piacere benvenuto, e il dottor Paolo Fiorini, benvenuto. Ultimo ma importante commissario è il mio collega Andrea Saggese, che ha un'esperienza passata di commercialista, quindi guarderà molto anche i vostri numeri, e è un coach che Trentino Sluppo utilizza per le aziende nei nostri incubatori. Quindi avete quattro persone di esperienza, di esperienza anche multidisciplinare, quindi sicuramente sono sicuro che vi daranno dei feedback molto utili, che è la cosa più importante. Prima di iniziare, in anticipo che inizieremo con Kiss My Bike, KMB Lab, il nome dell'azienda, quindi prego Nadia di prepararsi. Volevo dire che una cosa comune a tutte queste startup, sono tutte euro startup, nel senso che sono state supportate o finanziate tramite fondi che provengono dalla Commissione Europea. Man mano che le presenterò vi dirò, perché ciascuno di loro ha avuto un supporto magari di tipo diverso. Per esempio KMB Lab, e qui l'abbiamo invitata come startup VIP, quindi una startup di esperienza, perché ha vinto recentemente un cosiddetto SMA Instrument. SMA Instrument, per chi non sa cos'è, è una sorta di coppa dei campioni delle PMI europee. Ne vincono pochissime, in Trentino in quattro anni ne hanno vinte 7-8, hanno vinto questa competizione, quindi una sorta di Champions Lease, quindi avrete a che fare con una startup su cui l'Europa sta puntando. Nadia, prego. Grazie mille. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Nadia e oggi vi presento Kiss My Bike. Nel mondo ogni minuto vengono rubate sette biciclette e sommando vari fattori, il tasso di recupero molto basso e in generale l'abbandono del ciclismo a seguito del furto comporta un danno complessivo al mercato europeo di quasi 2 miliardi di euro. Noi abbiamo creato una soluzione che permetterà di dire ai ladri di biciclette Kiss My Bike. Di che cosa si tratta? Si tratta di un complesso sistema IoT composto di un dispositivo elettronico, un'applicazione mobile e una piattaforma cloud. Cosa succede? Questo dispositivo installato all'interno della bicicletta, quando la bicicletta viene spostata e viene rubata, manda una notifica al proprietario della bicicletta e comincia a tracciare la posizione della bicicletta, quindi il proprietario sa sempre dove si trova il suo mezzo. Non siamo gli unici a fare questo genere di prodotto, ce ne sono alcune aziende a livello nazionale e europeo, però questo mercato è molto giovane e non tutti di questi prodotti sono disponibili sul mercato. Quello che ci distingue da altri prodotti è la combinazione di tre caratteristiche. Kiss My Bike è invisibile perché, avete visto, le dimensioni del dispositivo sono molto ridotte e quindi permettono di installarlo all'interno di varie parti della bicicletta e la sua autonomia rispetto ai concorrenti che offrono i prodotti che funzionano da alcune settimane a alcuni mesi, il nostro sistema funziona fino ad un anno di tempo in condizioni normali. Inoltre la combinazione di tecnologie mobili e satellitari danno la precisione efficace di localizzazione. Il mercato di biciclette è un mercato in crescita, gli ultimi trend sono chiaramente le vendite di biciclette elettriche che si stima che nel prossimo decennio costituiranno quasi la metà del mercato globale di biciclette. Noi chiaramente approcciamo non proprio il mercato di biciclette ma il mercato di accessori per biciclette e sistemi di sicurezza e questo mercato si valuta ad un valore di circa un miliardo e qualcosa. Noi attualmente ci focalizziamo sui clienti B2B, i principali customer sono produttori di biciclette, noleggiatori di biciclette e compagnie di assicurazione, a loro vendiamo il nostro dispositivo al prezzo di pareggio. I ricavi provengono dalla vendita di abbonamenti di servizio antifurto agli utenti finali, quindi ai proprietari di biciclette, al prezzo di 30 euro all'anno. La marginalità del servizio antifurto è di 50%. Del 2019 stimiamo di approcciare anche il mercato B2C. In questi anni anche come Luca ha anticipato abbiamo fatto dei progressi, nel 2015 è stata creata l'idea, con vari sostegni provinciali e europei siamo arrivati quest'anno al nostro primo cliente e l'ordine di poco più di mille dispositivi e quello che ci fa particolarmente contenti abbiamo ricevuto oltre 400 mila euro di fondi pubblici. Attualmente stiamo cercando altri 400 mila euro per 20% di società e nel 2019 crediamo di poter vendere 10 mila dispositivi e attivare le vendite B2C. Stimiamo di raggiungere il punto di pareggio nel 2020. Attualmente siamo in tre, con gli investimenti che crediamo di ricevere aumentiamo il nostro team e con il nostro impegno e del vostro supporto diventeremo il miglior sistema antifurto per biciclette nel mondo. Grazie. Vi sono domande da parte, ho suggerimenti anche da parte della commissione, del pubblico? Ci sono domande? C'è spazio per le domande? Se ci sono le domande? Grazie. Qualche maggiore dettaglio sulla composizione e le competenze del team, gentilmente. Allora, siamo tre soci fondatori che attualmente possediamo 100% della società. Io mi occupo di amministrazione, marketing e tutto quello che non riguarda la tecnologia. Ho due soci, un ingegnere software e un ingegnere hardware che si occupano appunto dello sviluppo del sistema. Siamo tre alumni dell'Università di Trento, tutti e tre abbiamo fatto il dottorato qua, in varie discipline. E appunto stiamo cercando di ampliare il nostro team con sia personale dedicato alle vendite, sia alla parte tecnica. Perché l'avete chiamato Kiss My Bike? Come è nata questa idea? E come vi siete trovati a costruire questo prodotto? E perché va preso questo, Kiss My Bike, piuttosto che gli altri? Se ce lo spieghi un po' meglio. Allora, come è nata? Quattro biciclette rubate da Trento. Quindi è abbastanza percorso classico di coloro che costruiscono questi sistemi. Siamo vittime di furti. Kiss My Bike è una maniera diplomatica di rispondere al problema dei furti. E come dicevo, il sistema Kiss My Bike è differente dai sistemi esistenti, ma non sempre presenti sul mercato, proprio grazie alla combinazione di tre caratteristiche. Perché in alcuni prodotti concorrenti queste caratteristiche sono presenti, una o due, però non tutte e tre insieme. Sottolineerei l'importanza della durata della batteria. Un anno di funzionamento permette al proprietario della bicicletta di non pensare sempre di dover smontare qualcosa, ricaricare e quindi lasciare la bicicletta non protetta. Sì, senti, allora 2019 business to consumer, è dopodomani nel senso, no? Stiamo lavorando. Ecco appunto, immagino abbiate già un business model, una ipotesi organizzativa, un e-commerce, punti vendita. Sì, cominceremo sicuramente con le vendite online dal nostro negozio online sul quale stiamo lavorando. Ci sono anche le questioni di certificazioni che sono necessarie appunto per la vendita al dettaglio, sulle quali stiamo lavorando appunto adesso. Io ti chiedo invece quanti dispositivi dovrete vendere o dovrete avere in giro per arrivare al punto di pareggio, se avete fatto questo tipo di stima, approssimativamente. Circa 17.000. Grazie, Nadia. Il prossimo che invito a salire sul palco è Michele Tonezzer. Michele è della start-up ormai insomma piuttosto navigata, come si dice, in maniera diciamo colloquiale. Allora, Michele è della start-up Trentino Rainbow Energy, è un pioniere delle start-up finanziate in Trentino con fondi europei. Nel senso che la loro, la start-up di sua è stata presentata a un bando del 2009, parliamo ormai diciamo di secoli fa, per come progredisce la tecnologia, vinsero il primo bando cosiddetto seed money, che è un bando che Trentino sviluppo gestisce per conto della provincia utilizzando i cosiddetti fondi FESR, fondi europei di sviluppo regionale. vinsero, avevano un prodotto che adesso vi racconteranno, era un po' una scommessa d'inizio perché sembrava anche la commissione, ricordo che li valutò, riteniamo un progetto ancora che dovesse sviluppare, era un progetto quasi di ricerca, quindi c'era quasi il dubbio, però ciò che promettevano di fare era molto molto interessante. Ci sono riusciti, lui vi recontrerà come, sono già in parte sul mercato, e adesso la parlo a Michele per raccontarvi più in dettaglio. Trentino, Rainbow Energy. Grazie mille Luca. Buongiorno a tutti, mio nome è Michele Tonezzer e vi parlerò di Rainbow, che è il sistema fotovoltaico del futuro. Partiamo da un paio di concetti. L'uomo consuma quantità di energia enormi e in continuo aumento. Oggi si consumano otto volte l'energia che veniva consumata negli anni 50. Attualmente l'87% più o meno della richiesta è soddisfatta da energie fossili. Questo comporta delle problematiche che tutti conosciamo, inquinamento, insicurezza dell'energia, per quanto riguarda disponibilità e costo dell'energia, e l'esaurimento dei combustibili fossili. Le steam parlano di 25-40 anni con i ritmi di consumo che abbiamo ad oggi. Quindi l'energia rinnovabile non è una moda, come qualcuno pensa, ma è una necessità strategica. Le fonti energetiche rinnovabili saranno mai in grado di sostituire alle fonti energetiche fossili, questa è la domanda. Il sole ci manda ogni 90 minuti l'energia che noi consumiamo in tutto l'anno. Questa è la risposta. Ce la danno già. Il sole rappresenta la più importante fonte energetica oggi esistente. Rappresenta il 99,6% di tutte le fonti energetiche. È limitata, inesauribile, pulita, gratuita e distribuita. Non entro nei meandri, ma sono tutti concetti molto importanti. I limiti della tecnologia fotovoltaica. Attualmente la tecnologia più promettente è la tecnologia fotovoltaica, però presenta dei limiti. Costi di produzione dell'energia non competitivi, mancanza di silicio di grado solare, ridotte efficienze di conversione, siamo sul 15% più o meno, tecnologie non riciclabili e non smaltibili. Per il futuro servono nuove tecnologie più efficienti e riciclabili. Qui arriviamo noi. Abbiamo sviluppato questo modulo che sostanzialmente sfrutta la concentrazione della radiazione solare e la concentra su delle piccole celle fotovoltaiche grandi come un francobollo e che hanno un'efficienza del 45%. Considerate che il silicio ha il 16% più o meno. Queste celle convertono l'energia e ci danno... Questo sistema ci garantisce dei vantaggi che sono rivoluzionari nel mondo del fotovoltaico, che sono qui riportati in comparazione con la tecnologia standard al silicio. Abbiamo un'efficienza di sistema comprovata e monitorata da enti terzi maggiore del 32% contro un'efficienza del 15% del silicio. Una massima efficienza raggiungibile nel futuro dell'87% contro il 28% del silicio. Un degrado annuale che è dello 0.1 contro l'1% del silicio. Un'area dei pannelli per produrre 3.000 kWh anno, che praticamente è il consumo di un'abitazione, che è di 3,8 metri quadrati contro i 16 del silicio. Riciclabilità del sistema superiore al 95%. Ad oggi il silicio non è riciclabile, è un prodotto, è un rifiuto speciale. Non è né riciclabile né smaltibile. Il costo dell'energia prodotta che va dai 2,4 centesimi di euro kWh contro l'attuale costo dei 6,10 del silicio. Qui ci sono riportati alcuni dei premi e attestazioni avute nel corso degli anni. Come diceva Luca Capra, abbiamo vinto il primo bando seed money della provincia autonoma di Trento. E nel 2016 abbiamo ricevuto il premio Leonardo, conferito dal GSE e consegnato dal presidente Mattarella, come la più promettente tecnologia sviluppata a livello nazionale nel settore delle fonti rinnovabili. Qual è il mercato del settore fotovoltaico attuale? Il mercato del fotovoltaico è uno dei mercati che da quando è nato è in maggiore crescita rispetto a tutti gli altri mercati. È un tasso di crescita del 30% da quando è nato. E l'installazione complessiva nel periodo 2017-2022 si stima su un valore d'affari di circa 1.100 miliardi di dollari. A fianco a questo c'è una turbulenza tecnologica molto importante. Vedete che le nuove tecnologie sono stimate a fermarsi nel futuro in maniera molto crescente rispetto alla tecnologia silicio. In questo contesto la tecnologia Rainbow è un oggetto di grande interesse nell'attuale mercato fotovoltaico. Qual è il valore della tecnologia? Quali sono i ritorni economici? Qui è una tabellina dalla quale abbiamo estratto alcuni valori più importanti che sono legati alla produzione vendita di moduli Rainbow per una capacità di 100 megawatt annui. Quindi la capacità produttiva di 100 megawatt è un fatturato di 150 milioni di euro, un EBIT di 69 milioni di euro e un EBIT di 65. Dove siamo e cosa cerchiamo? Il processo di valorizzazione della tecnologia ha visto una fase di prototipazione in laboratorio, una fase di prototipazione fuori dal laboratorio con i testing. Attualmente abbiamo concluso la fase di prototipazione e di testing e stiamo conducendo la fase di ingegnerizzazione della tecnologia. Tre sta valutando in questo ambito la possibilità di avvalersi di partner industriali e finanziari interessati all'ingegnerizzazione di questa tecnologia che si presenta come una tecnologia rivoluzionaria nel mondo del fotovoltaio. Ok, con questo concludo. Vi ringrazio. Attendo domande. Scusami. Ottimo, bella, interessantissimo insomma. Ma lo scenario competitivo, i vostri competitor, con chi vi confrontate? Sì, non ho affrontato perché avevo cinque minuti e è una cosa un po' lunghe. Troppo questa. Sì, no, è chiaro, è chiaro. Allora, sostanzialmente la tecnologia a concentrazione come quella che facciamo noi è sviluppata da altri partner a livello nazionale ed internazionale. Quello che distingue la nostra tecnologia dalla tecnologia degli altri è che gli altri stanno cercando di adattare una tecnologia di ambito aerospaziale in ambito terrestre. e questo ha una serie di limitazioni forti. Quando noi lavoriamo in ambito aerospaziale lo spettro del sole è sempre lo stesso perché noi giriamo intorno al sole sostanzialmente. Quando noi siamo sulla faccia della Terra abbiamo l'atmosfera. L'atmosfera fa cambiare il sole. La mattina è rosso, a mezzogiorno è giallo, la sole è di nuovo rosso. Noi abbiamo sostanzialmente diviso lo spettro, non sono entrato nei meandri ovviamente, ma lo spettro solare in due componenti perché la componente blu viene mandata su una cella e la componente rossa su un'altra mentre generalmente i competitor utilizzano delle celle che sono una sull'altra. Quando una di queste celle non funziona non funziona l'intero dispositivo. Quando la mattina il sole è rosso la componente rossa lavora al 100%, la componente blu è inesistente quindi tutto il dispositivo non funziona. Per dirla in soldoni i dispositivi della concorrenza funzionano indicativamente dalle 11 alle 5 del pomeriggio. I nostri sistemi funzionano dalle 7 e mezzo da appena sorge il sole fino a quando tramonta. Questo ci dà una competitività a livello di producibilità ed economico che rende questo sistema competitivo. Quali sono allora le difficoltà nel far diventare questo ancora un prototipo un prodotto di largo consumo? A spiegarla così è un'idea geniale dovreste già avere la fila fuori dalla porta. Una discreta fila c'è. Allora sostanzialmente le difficoltà sono moltissime. Sono di carattere tecnologico di carattere concettuale anche perché il mondo del fotovoltaico non è abituato a ragionare in questi termini però ci sono dei grossi gruppi quando io parlo di prototipo non parlo di un prototipino siamo partiti da un prototipino abbiamo fatto uno più grande attualmente abbiamo un prototipo che è grande più o meno come questa sala che sta girando abbiamo rapporti diretti con gli Emirati Arabi con Dubai abbiamo rapporti diretti con l'Egitto in tutta la fascia dove c'è molto sole sostanzialmente questa tecnologia qui è di grande interesse. Qual è la difficoltà di portare questa tecnologia ai numeri che ho riportato? A livello tecnologico ci siamo arrivati adesso la difficoltà è quella di portarlo a livello economico in quei dati che ho riportato io. Cioè riuscire a fare sì che questo sistema e l'ingegnerizzazione si occupa proprio di questo di un sistema invece di produrne uno ne dobbiamo produrre 200.000 all'anno e invece di farlo costare il costo che è di 10 euro watt attuale farlo costare il 0,6 0,7 che è l'ingegnerizzazione del progetto. Questa è l'attuale sfida. Quelle passate che erano molto più importanti dal punto di vista tecnologico era quella di realizzarlo perché l'idea è molto bella. Poi quando uno concentra questi sistemi concentrano 660 volte il sole se uno ci passa con un noi avevamo provato con un bastone non è che piglia fuoco esplode sono delle potenze enormi e quindi ci sono tutti i fattori di sicurezza interni i fattori del degrado da risolvere infatti come avete visto siamo partiti nel 2010 il prototipo è stato realizzato in 5-6 anni è stata un'attività molto importante noi veniamo deriviamo come start up siamo una start up del dipartimento di ingegneria dei materiali di Trento e poi ci hanno seguiti siamo avalsi delle consulenze dell'università di Trento dell'università di Ferrara dell'MIT di Boston abbiamo avuto il centro tecnologico Eletat della Spagna cioè ci sono dietro delle grandi expertise in tutte le componentistiche elettronica ottica ci sono tanti componenti quindi le difficoltà sono enormi effettivamente sono state prego scusami non mi ricordo hai detto una riduzione di costi da da attualmente ci aggeriamo l'ultimo prototipo fatto che era dello scorso anno era di 10 euro watt picco che adesso si attesta sui con le nuove in fase di ingegneriazione siamo ai 6 dobbiamo scendere sotto l'1 non è una cosa complicatissima perché poi sono dinamiche di scala cioè invece di realizzare lo stampo uno a uno si fa uno stampo e se ne producono 100.000 cioè quindi bisogna trovare i fornitori corretti bisogna testare che il fornitore sia adeguato allora sì idea bellissima mi associo ai colleghi però per fare la fila fuori dalla porta c'è il problema di the going to market diciamo io cito sempre Thomas Alva Edison che diceva le buone idee sono 1% inspiration 99% payspiration no allora per fare la fila fuori dalla porta per invadere il mondo con questa bellissima idea che modello di penetrazione del mercato avete pensato la domanda giustissima quando io dicevo abbiamo la fila fuori dalla porta abbiamo diverse realtà fuori dalla porta lo scopo nostro non è quello di portare industrializzare e vendere la tecnologia perché ci siamo scontrati con delle difficoltà che sono sostanzialmente quelle di avere una rete commerciale che per essere costruita ha bisogno di impegni enormi l'industrializzazione anche ha degli impegni che sono molto diversi da quelli che noi abbiamo finora sopportato quello che abbiamo fuori dalla porta sono grossi gruppi italiani ma anche internazionali e quelli italiani lavorano anche a livello internazionale che sono interessati all'industrializzazione della tecnologia loro ci dicono voi arrivate ad ingegnerizzarla ci portate il piano con tutti i fornitori tutte le linee di assemblaggio eccetera arrivate alla fine della fase di ingegnerizzazione dove ci fate vedere chi ci dà le macchine per assemblare ci fate vedere i prototipi funzionanti ci fate vedere noi entriamo e ci occupiamo dell'industrializzazione e della commercializzazione generalmente chi si occupa dell'industrializzazione ha già tutta la linea di commercializzazione in questo caso qui nessuno si mette a fare una linea solo un folle ma non ce ne sono si mette a fare una linea da 100 megawatt senza avere già chi glieli compra e quindi insomma inizialmente volevamo arrivare fino all'industrializzazione dopo nell'arco del tempo ci siamo resi conto la fila fuori dalla porta è ci sono grossi interessi di grossi player che vogliono industrializzare la tecnologia quindi il nostro obiettivo è arrivare alla fine dell'ingegnerizzazione grazie a voi grazie Michele perfetto ora passiamo alle energie rinnovabili che sono prodotte dal vento dall'acqua adesso è qui con noi la start up WinCity Isabella Achilli ti invito a salire due parole anche WinCity è un euro start up nel senso che proprio recentemente ha vinto il bando Sid Money la cui graduatore è uscito una settimana fa quindi sono tra l'altro risultanti anche primi in graduatoria quindi devono poi anche dimostrare di aver meritato la fiducia della commissione inoltre hanno anche vinto un bando Kick Climate Kick Climate sono delle mega associazioni europee finanziate della commissione europea che si concentrano su certi settori per evolvere nel senso di imperialità educazione e anche tecnologie la Kick Climate si occupa come dice un po' per esagire un po' il nome di tutto ciò che è regato al clima quindi potiamo dire una Kick che guarda il green alla sostenibilità anche qui hanno vinto un bando dell'acceleratore Kick Climate quindi in questo momento sono qui addirittura con due fardelli della commissione europea che poi li starà a vigilare la parola Isabella buongiorno mi chiamo Isabella Achille faccio parte della start-up WinCity come dice il titolo parliamo di variable geometry for viable flows cioè di turbine eoliche e idrocinetiche la cui geometria è variabile e si adatta a flussi variabili ma facciamo un passo indietro quando ad esempio compriamo una macchina e quindi possiamo fare lo stesso paragone con un rotore di una turbina noi la compriamo perché produce una certa potenza ma in realtà a causa di vari problemi produrrà molto meno ad esempio un quarto di quello che per quello che mi viene venduto quindi nella realtà anche una turbina eolica o idrocinetica mi produrrà un'energia che è molto inferiore rispetto alla potenza per la quale mi è stata venduta nell'arco del tempo cioè siamo ben al di sotto dell'unità qual è il problema che la natura è variabile il vento l'acqua è intermittente e i flussi diminuiscono aumentano continuazione quindi la nostra idea è quella di realizzare una turbina eolica e dopo vedremo anche idrocinetica la cui geometria varia adattandosi alla variabilità della natura in questa immagine infatti vediamo la nostra turbina che varia di diametro e varia anche di angolazione delle pale in particolare per bassi flussi di vento o di acqua avrà una geometria più contenuta man mano che il flusso aumenta il suo diametro aumenterà adattandosi appunto a una maggiore velocità di rotazione in azzurro possiamo vedere la sua curva di potenza che è il prodotto di tante curve che mettono insieme un po' tutte le varie geometrie delle turbine ovvero la nostra turbina risulta avere una curva che si adatta appunto a diverse velocità e quindi è ottimizzata a produrre potenza secondo diverse velocità del vento la sua applicazione può essere ad esempio in un ambito integrato con un impianto fotovoltaico oppure in ambito navale oppure come dicevo prima possiamo prendere la stessa turbina e trasferire la sua applicazione in ambito fluviale o all'interno di un lago e l'innovazione sta nel quindi prendere esattamente la stessa geometria e gli stessi materiali adattandoli ad esempio con un galleggiante a un ambito idrico e produrre molta più potenza rispetto all'eolico per principi fisici di densità dell'acqua e adattandosi quindi sempre nella geometria a correnti di acqua che possono essere anche di pochi metri al secondo e producendo fino a 12-15 kilowatt quindi è una turbina self-starting che si aziona da sola e nel modello previsionale dei prossimi sei anni vediamo che già a basse velocità dell'acqua quindi anche 1-1,25 metri al secondo riusciamo ad avere un payback time quindi un ritorno economico già a 4-2 anni in particolare il mercato delle turbine idrocinetiche si attesta attualmente a un miliardo di euro e la nostra intenzione è quella di o commercializzare direttamente la macchina con comunque un costo molto più basso rispetto alla media del settore oppure vendere l'energia energy as a service quindi a pacchetti e quindi in questa fase ci troviamo al di sotto del punto di equilibrio perché abbiamo bisogno di investimenti ma come è stato detto precedentemente abbiamo appena vinto un bando seed money per realizzare il prototipo ad acqua mentre il prototipo eolico è già in fase di realizzazione e di test e l'obiettivo a 5 anni è quello quindi di poter commercializzare 5 turbine e poi in base al tipo di mercato power based o energy as a service si avranno rispettivamente i bilanci che sono rappresentati in verde o in azzurro il nostro team è formato da Tommaso Morbiato che è il co-founder e i fratelli Casonato io faccio parte del research and development e poi ci sono altri settori il nostro dream è quello appunto di conciliare l'economicità con la sostenibilità e quindi riuscire a presentare una tecnologia innovativa che sia economica e grazie per l'attenzione ci trovate in piazza della manifattura a Rovereto grazie io vi ho già incontrato in alcune presentazioni precedenti volevo capire qual è il progresso del vostro sviluppo e di che cosa avete necessità adesso che percorso state diciamo in questi mesi in questi ultimi semestri nei quali vi ho incontrato qual è il progresso che avete fatto diciamo come stavo dicendo prima la turbina eolica è già la prima turbina il primo prototipo è già stato realizzato e sta per essere testato e attualmente stiamo trasferendo questo tipo le tecnologie del vento a idrocinetica e quindi grazie ai fondi che abbiamo vinto col bando Seed Money stiamo iniziando la realizzazione del primo prototipo idrocinetico che abbiamo intenzione di testare ad esempio nel lago di Garda dove c'è un flusso di medio di 5 metri al secondo quindi comunque produrrebbe molta potenza in modo innovativo rispetto ad altre turbine idrocinetiche Grazie Un altro punto la difesa della vostra invenzione diciamo avete pensato ci sono pericoli di di essere copiati diciamo Entrambi i modelli sia idrocinetico che eolico sono uno ha già ricevuto il brevetto e quello idrocinetico è già in fase di attesa di brevetto come per la tecnologia di prima credo che ci sia un po' una corsa all'oro in questo tipo di settori non mi piace il fatto che abbiate intenzione di metterci 5 anni a fare 5 turbine quindi l'idea è capire dove c'è margine di velocizzare questo processo di installazione a prescindere che sia vendita o meno ma insomma di installazione di turbine e se dipende da una cosa tecnologica o semplicemente economica prima intendevo 5 anni nel corso di 5 anni è il panorama generale poi si tratta di mettere a punto si spera in meno di 5 anni queste turbine in questo caso stiamo parlando di turbine idrocinetiche è una previsione di turbine idrocinetiche mentre quella eolica avendo già costruito il primo prototipo siamo già in fase più avanzata quindi diciamo portiamo avanti due progetti contemporaneamente ma la parte eolica è più avanzata sì anch'io avevo più o meno una domanda analoga a parte quella che ho fatto ai vostri colleghi di analisi del mercato chi sono i vostri compagni poi anch'io avevo la appunto la domanda riguarda la timeline complessiva no quali sono gli step e quindi anche quali sono al di là di questo del finanziamento del seed money ma quali sono le richieste evidentemente di finanziamento per andare avanti però che chiaramente devono far scopa con il progresso di una tecnologia insomma di una struttura no allora per quanto riguarda la risposta ai competitors questa tecnologia adesso mi sposto nell'ambito idrocinetico è innovativa perché rispetto ad altri competitors perché è una turbina di piccole dimensioni che è in grado di generare una potenza già a bassissime velocità del flusso dell'acqua e tanto che può essere applicata ad esempio ad un lago e quindi attualmente il mercato idrocinetico è concentrato su grandi potenze all'interno di oceani mari invece in questo caso si tratta di un'applicazione che può sfruttare bassa intensità dell'acqua proprio perché la sua geometria è variabile anche in questo è molto innovativa si può azionare da sola e quindi in grado di generare potenze appunto già da basse velocità e inoltre non ha bisogno di infrastrutture per captare più flusso perché appunto è molto autonoma e si adatta all'intensità vi ringrazio in realtà non era sì quello della tecnologia era proprio nomi e cognomi delle i competitor cioè quelli che stanno sul mercato e tenteranno di accaparrarsi la torta insomma allora in ambito idrocinetico ci sono comunque grandi aziende che come dicevo si spostano più in ambito di grandi mare oceano però piccole applicazioni non esistono tanti competitors in queste piccole applicazioni appunto fluviale un mercato di nicchie insomma avrete modo poi di parlare con Isabella anche dopo adesso diciamo questa è la parte più pubblica grazie ecco adesso passiamo diciamo a quattro euro start up che sono rispetto alle precedenti leggermente più giovani come esperienza iniziamo con Carborem Carborem il professor Luca Fiori che adesso verrà a presentarla ci racconterà un interessante metodo per sfruttare la biomassa per fare business essendo imprenditori alla fine per fast business la start up Carborem anch'essa è arrivata mi pare terza in graduatoria del bando Sidmani quindi anche loro fruiranno di fondi legati al fondo europeo di sviluppo regionale e quindi do la parola a Luca prima che il matrimonio inizi e ci interrompano grazie grazie Luca io sono Luca Fiori sono uno dei soci fondatori di Carborem una società che si è costituita a fine ottobre dell'anno scorso come ricordava Luca una settimana fa abbiamo ricevuto la diciamo lieta novella che abbiamo stati finanziati dal progetto Carborem allora il contesto è quello della gestione e trattamento dei rifiuti e più in particolare noi proponiamo una tecnologia innovativa per trattare i rifiuti organici quali ad esempio i fanghi di depurazione o piuttosto la frazione organica dei rifiuti solidi urbani che qua a Trento diciamo collezioniamo in maniera molto spinta in termini di separazione differenziata e anche in generale scarti dell'industria alimentare penso alle deiezioni animali o piuttosto scarti agroindustriali come possono essere sanse di olive e vinacce il mercato di riferimento all'inizio vogliamo essere chiaramente focalizzati è quello degli impianti di trattamento acque che producono quantità importanti di fanghi di depurazione quindi acqua sporca uguale acqua pulita più fanghi risultanti dal processo di depurazione fanghi che oggi vengono trattati con diverse tecnologie ma le stesse presentano o una o un altro inconveniente o sono troppo lente o piuttosto diciamo sono energivore insomma la sostanza che la la totalità dei fanghi trentini vengono pretrattati localmente e poi esportati con un onere economico importante fuori provincia quindi essenzialmente quello su cui vogliamo intervenire è proporre un processo nuovo che renda il trattamento dei fanghi economicamente vantaggioso oggi trattare e smaltire un fango a discarica costa circa 100 euro a tonnellata con il nostro processo riusciamo a ridurre i costi sostanzialmente per arrivare a un costo dell'ordine dei 40 45 euro a tonnellata quindi da una parte riduzione dei costi di smaltimento però la nostra idea più ambiziosa noi vogliamo in realtà lavorare anche in un'ottica di economia circolare e quindi recuperare materia eventualmente energia dai fanghi in questo caso diciamo due sono gli elementi target il fosforo di cui sono ricchi i fanghi ma comunque anche l'azoto che potrebbe essere recuperati e poi rivenduti ad esempio nel mercato dei fertilizzanti chiaramente qua lo scenario economico è tutto da valutare anche a livello normativo in Svizzera ad esempio si è obbligati a estrarre fosforo dai fanghi in Italia no quindi anche lì bisogna che la normativa in qualche modo solleciti il recupero all'economia circolare applicata ad esempio ai fanghi di depurazione modelli di business ne abbiamo un paio quindi o diciamo noleggio e gestione scusate noleggio e manutenzione dell'impianto o piuttosto vendita e diciamo manutenzione dell'impianto i nostri clienti in primis quindi vogliono essere gli impianti di depurazione abbiamo visitato abbiamo parlato qua con diciamo gli enti locali a riguardo abbiamo fatto come Carborem un'analisi di mercato diciamo che un impianto di depurazione troppo piccolo non si presta all'utilizzo della nostra tecnologia quindi l'effetto scala è importante comunque il nostro impianto la nostra tecnologia diventa diciamo va a un punto di pareggio per impianti dell'ordine che producano 5.000 tonnellato anno di fanghi di supero e analizzando tutto il nord Italia abbiamo visto che ci sono tanti impianti 94 impianti che potenzialmente hanno una capacità in grado di ospitare con successo la nostra tecnologia impiantistica quindi facendo anche un'analisi dei costi a varie scale si può stimare un mercato per il nord Italia se riuscissimo a coprire tutti gli impianti di depurazione di 180 milioni di euro la nostra tecnologia è alternativa ad altre evidentemente in particolare diciamo quella che oggi viene fatta ma che è sempre più limitata a livello normativo è lo smaltimento in agricoltura che sicuramente già permette di fare economia circolare su fosforo azoto però comunque come dire a livello di sostenibilità ambientale emissioni odori è problematica ancora abbastanza interessante il compostaggio ma in Trentino sappiamo benissimo che questo ad esempio c'è stato su Ghana problemi se no evidentemente il peggio è la discarica processi un po' particolari i pirolisi di classificazione vengono fatti in minima parte in alto adige quindi sostanzialmente il nostro processo è veloce noi in poche ore trasformiamo il fango in diciamo ne riduciamo i volumi di tre volte in poche ore il processo avviene in un reattore chiuso quindi anche a livello di emissioni è estremamente facile da gestire quindi ci riteniamo diciamo molto interessanti rispetto alle altre tecnologie concorrenti il team è formato da sei soci fondatori quindi ci sono due docenti universitari io sono ingegnere chimico il collega Gianni Andreottola è un ingegnere civile sanitario quindi lui è esperto di impianti di trattamento acque io di processi chimici termochimici in particolare due dottorandi Michela dottoranda di area industriale Fabio dottorando di area ambientale Maurizio che è un postdoc come dire alla mia età quindi come dire una persona di esperienza 44 anni e poi Michele che invece non è un universitario non è un accademico ma è il nostro business developer nel 2013 abbiamo iniziato con un piccolissimo impiantino che io nel 2014 ho presentato la notte dei ricercatori qua a Trento nel 2016 un reattore diciamo di un 25 litri di inox che abbiamo attualmente diciamo presso l'università di Trento e vogliamo anche grazie al Sidmania arrivare nel 2019 a un impianto demo quindi dimostrativo non ancora industriale per il quale abbiamo stimato un costo dell'ordine dei 350 mila euro per dimostrare la tecnologia per poi un impianto commerciale io vi dicevo la soglia è dei 5 mila tonnellate anno perché diciamo l'impianto sia competitivo 8 mila ci sembra una taglia sensata in questo caso siamo quasi a 2 milioni di euro come costo di impianto grazie le solite domande un po' diciamo anche qui immaginiamo corsa all'oro come vi difendete la timeline i tempi sembrano un po' lunghi fa bisogno finanziario un po' reperire 2 milioni di euro per un progetto bisogna andare con qualcosa di solido di difeso eccetera diciamo e comunque il time to market deve essere tenuto strettamente sotto controllo ecco in relazione anche all'arena competitiva i player gli interessi che ci sono in questo settore eccetera sì certo diciamo a livello di difesa noi stiamo lavorando a un brevetto per il recupero dell'azoto nel senso che esistono brevetti che riguardano il fosforo che diciamo più ambito dell'azoto ma anche l'azoto ha una sua importanza e su quello stiamo lavorando con un brevetto che sottometteremo a brevissimo per quel che riguarda diciamo il reperimento fondi sì 2 milioni di euro in realtà sono per un impianto a scala industriale quindi adesso noi dobbiamo convincere un investitore ad esempio a tirare fuori 100 mila euro che andrebbero a fare diciamo coppia con i 100 mila euro della fase 2 del seed money a cui addizioniamo i 70 mila euro della fase 1 del seed money quindi con 100 mila euro arriviamo a un demo che è un demo evidentemente un impianto che ancora non è economicamente sostenibile in termini di produzione però dimostrerebbe la tecnologia quindi chiaramente chi ci mette 100 mila euro magari anche 150 o 200 per sostenerci insieme a noi e fare insieme sostenerci per la fase 2 del seed money chiaramente deve già capire che in effetti poi potrà vendere un impianto a 2 milioni di euro se lo può vendere diciamo dato il mercato in questo senso anche il team siamo 5 diciamo ingegneri un business developer evidentemente manca qualcosa quindi ora l'investitore con cui stiamo dialogando ce ne sono 2 anche forse 3 provincia di Mantua 2 provincia di Trento è un investitore che è già operativo nell'ambito degli impianti di trattamento acque quindi chiaramente lui avrebbe già il mercato noi dal nostro ci mettiamo anche la nostra rete comunque di conoscenza nel senso che comunque siamo andati in ADEP prima ancora di vincere il seed money abbiamo presentato il progetto abbiamo già una possibile locazione dell'impianto demo perché anche quello stiamo parlando di impianti hardware quindi in effetti la strada è in salita non è l'application sul mobile e poi a livello diciamo di in Italia il mercato sarebbe relativamente vergine all'estero no ci sono una ditta in Spagna e una in Germania che già hanno dei demo e in Spagna ci siamo stati a Valencia li abbiamo visitati in Germania abbiamo dialogato e si sta anche trattando eventualmente di fare diciamo di noi fare seguire la parte Italia con loro anche lì ci sono diversi modelli di business come dire solo commerciali no commerciali magari con il nostro brevetto sull'azotto insomma lì si tratta un po' di ragionare ora questo seed money ci dà diciamo una mano una spinta per una start up che affronta l'hardware quindi non è facile sicuramente quindi 2019 è il demo 2020 se tutto va bene un primo impianto industriale grazie un po' mettiamo eventualmente potremmo essere alternativi ma ha più senso metterci in serie quindi sostanzialmente il fango digerito che produce che ha prodotto biogas è ricco di azoto fosforo ed è molto difficile anche da disidratare un filtro pressa ci riduce l'umidità alla fine abbiamo un secco circa del 25% e questo è il prodotto che ci costa 100 euro a quintale smaltire che dicevamo prima il nostro processo è un processo termochimico rende il fango trattato carbonizzato parzialmente idrofobico quindi la grossa riduzione di volumi quindi di quantità va proprio nel fatto che noi rendiamo idrofobico il materiale per cui la nostra filtro pressa o nastro pressa che prima mi dava un secco del 25% mi dà un secco del 60% 65% a valle del trattamento l'azoto e il fosforo sono ancora lì nel solido il nostro brevetto in realtà diciamo ora vuole togliere l'azoto durante il processo ok quindi non ce lo troveremo più nel solido né tanto meno nel liquido perché comunque a valle del processo io ho il solido ridotto in blu ma liquido quindi anche questo ha senso di contestualizzarlo all'interno di un impianto di depurazione in cui il liquido possa essere ricircolato all'impianto in testa all'impianto per depurarlo o addirittura se l'impianto è dotato di digestore anaerobico produrre più biogas grazie Luca esatto se avete modo di confrontarmi grazie grazie mille e complimenti prima di presentare la prossima startup volevo solo farvi vedere a video questo allora alla fine delle presentazioni ci sarà la commissione voterà la migliore startup quella che l'ha convinta di più mentre nel pubblico vi inviterò a votare con questo programma andate sul browser del vostro telefonino del computer mettete sli.do quando entrate vedrete che vi chiede di mettere un codice mettete hashtag 350 e vedrete il nome delle startup potrete votare la startup preferita vi invito a farlo verso l'ultimo per non falsare il voto però vorremmo anche avere il vostro pensiero mi raccomando le startup di non votare la stessa per una questione di correttezza il televoto la prossima startup sta salendo ciao Marco Marco Iezza il titolare della prossima startup che si chiama Medime da come si intuisce dal nome ha a che fare con l'healthcare con la salute quindi tecnologie per migliorare le condizioni delle persone che hanno bisogno di trattamenti per la loro salute Medime è fresca vincitrice del bando Sidmani anche lei nelle prime posizioni gradatorie quindi vediamo di sentire cosa ci proponi grazie Marco ottimo grazie buongiorno a tutti io sono Marco Iezza appunto vi presento Medime ora per introdurvi un attimino il concetto di cui andremo a discutere vi vorrei mostrare un brevissimo video audio scusate ricomincio perché chiaramente ci siamo persi non vuoi partire non vuoi partire non vuoi partire non vuoi partire ma non vuoi partire non vuoi partire Grazie a tutti. Grazie a tutti. La nostra soluzione è quella di sviluppare un dispenser automatico di farmaci ad uso domestico e una piattaforma di gestione sia web app che mobile. Il dispenser una volta caricato dei farmaci e programmato eroga la corretta medicina al corretto orario ed invia eventualmente delle notifiche al caregiver in caso di mancata assunzione o problemi del device o batteria scarica, cose di questo tipo. La piattaforma invece permette di gestire da remoto il dispenser nonché di visualizzare un report che dimostra sostanzialmente l'aderenza alle terapie. Questa è una cosa molto utile per il medico in modo tale che questo possa controllare effettivamente se la terapia venga seguita oppure no ed eventualmente tarare meglio la terapia. Tre sono i beneficiari di questo sistema sicuramente il paziente che grazie a una cura più efficace otterrà un miglioramento dello stile di vita, nonché il caregiver che grazie alla possibilità di controllare il proprio caro potrà vivere una vita più tranquilla e più serena e sicuramente avrà un rispormio di tempo. Terzo attore ma non ultimo è la sanità pubblica che chiaramente grazie a un miglioramento dell'aderenza alle terapie vi è un minor ricorso ai servizi ospedalieri sanitari e di conseguenza un risparmio economico per la sanità. Il mercato di riferimento è molto ampio, stiamo parlando di solo in Italia di 12 milioni di persone di cui 6,5 milioni sono over 65. Nel grafico, nella slide di sinistra potete vedere come l'aumento della popolazione anziana, quindi over 65, si è aumentata del 15% negli ultimi 10 anni. Invece il grafico di destra, forse lo vedrete poco perché è un pochino piccolo lo schermo, indica l'incidenza della spesa sanitaria pro capite che va ad aumentare il picco, è proprio oltre i 60-65 anni. Il business model è molto semplice, i canali di distribuzione sono i classici sanitari, quindi farmacie, parafarmacie, negozi di healthcare, nonché loro magazzini piuttosto che grossisti, il prezzo di lancio sarà 149 euro IVA inclusa. Un prezzo di questo tipo permette l'acquisto di questo prodotto a chiunque, in più abbinato alle feature smart di questo prodotto ci permette il posizionamento in alto a destra. In questo grafico potete vedere che nel mercato esistono sì dei dispenser di farmaci, la maggior parte di questi, direi tutti questi, non hanno le stesse caratteristiche del nostro e soprattutto non sono presenti in Italia. La maggior parte di questi sono in America, abbiamo qualcosina in Nord Europa. Roadmap, ad oggi abbiamo sviluppato il prototipo funzionale hardware, stiamo sviluppando il prototipo software e inizieremo l'iter certificativo. Nel 2019 prevediamo la produzione del primo lotto, nonché il lancio del prodotto. Ad oggi abbiamo appunto vinto il seed money e infatti abbiamo bisogno di 250.000 euro, di cui 60.000 euro per finanziare il prototipo, che chiaramente avendo vinto la prima fase del seed money abbiamo ricevuto, ora stiamo cercando 190.000 euro per arrivare all'industrializzazione. Il team è formato da me, sono amministratore e co-founder dell'azienda, ho un partner, abbiamo degli advisor in ambito che ci hanno aiutati sostanzialmente allo sviluppo del prodotto e a creare un business plan commerciale migliore, poi abbiamo delle partnership aziendali per la produzione del prodotto che vedete in calcio. In calcio, scusate. Vi ringrazio. Grazie Marco. Abbiamo tempo per domande, vedo che stanno per uscire, quindi domande veloci, perché fra un po' probabilmente vi saranno certi rumori di fondo. Prego. Senti, no scusa, una cosa non ho capito, è passata veloce la slide, dunque 12 milioni di persone malate, 6,5 over 65, giusto? In Italia, sì, il mercato italiano. Ma persone malate o cronici, cioè il target di riferimento? Cioè la mia domanda è? Sono potenziali clienti italiani, quindi parliamo del 20% della popolazione italiana che ha almeno due malattie croniche, quindi è soggetto chiaramente a delle terapie complesse. Di questi 6,5 sono over 65, quindi è chiaro che il nostro target iniziale sono gli over 65, che sono le persone che hanno maggiore necessità, anche perché come indicavo nel grafico dell'incidenza della spesa sanitaria, notiamo come oltre 60-65 anni la spesa sanitaria aumenta. Quindi sostanzialmente sono gli over 65 che hanno più necessità di medicinali. Scusami, invece una seconda domanda brevissima, sulla slide dello scenario competitivo, vi siete posti una domanda, dico perché fuori, negli Stati Uniti, eccetera, ma mercato globale, perché non in Italia, se il mercato è interessante? Chiediamolo a loro. Io credo che in Italia ancora non c'è stato nessuno che sia entrato in questo mercato, in realtà esistono delle start-up che stanno cercando di arrivare a una soluzione come questa, una in particolare è Memio, era una start-up romana che però ha abbandonato questo progetto e ha sviluppato solo la parte software. Ora non so se continuerà con lo sviluppo del prototipo hardware, quindi del device, oppure no. È stata comunque una start-up che grazie a questo dispenser è stata finanziata economicamente. Altre domande? Forse c'è il ragazzo dietro. Beh, prima di tutto penso che sia una bella idea. 150 euro si compra in farmacia. Esatto. Quanto rimane alla farmacia, al distributore, quanto rimane a voi, quanto è il costo di produzione vostro, quanto guadagnerebbe la vostra azienda? Qui bisognerebbe affrontare un discorso più complesso, in realtà noi svilupperemmo due tipologie di prodotto, uno, un dispenser base munito solo di connettività bluetooth che permette connettività ad altri device come smartphone, piuttosto che braccialetti, smartphone, per riprogrammare il device o per scaricare, fare il download dei dati. Questo prodotto però non ha la possibilità di inviare le notifiche in caso di mancata assunzione o di errori al caregiver. Questo prodotto noi entreremo sul mercato all'incirca 99 euro e va inclusa con un costo di produzione di 25 euro nostro, che può, un lotto di produzione di circa mille pezzi. Arrivando a 10.000 pezzi riusciamo a raggiungere un costo di produzione intorno ai 20 euro, quindi potremmo addirittura riuscire ad abbassare il prezzo di vendita o avere un primo margine superiore. Prezzo al farmacista, sconto del 50% come lancio, come prodotto di lancio, sconto tra il 50 e il 40% sul prezzo di vendita di 100 euro per il prodotto base. Stesso discorso lo faremo sul prodotto invece più evoluto, quindi GSM che ha all'interno della schedina per mandare le notifiche. Il costo di produzione è dell'incirca di 45 euro con un prezzo di vendita di 149, a cui va sommato poi i costi del servizio. Noi venderemo 149 euro il device con 6 mesi di servizio inclusi sostanzialmente. Anche qua 50% di margine per il farmacista e noi avremo 50% di margine. Quindi un prodotto che costa 100 euro in negozio, voi lo vendete a 50 per dare il resto? Ci costa 25, lo vendiamo a 50, indicativamente 50-55 euro e il retailer, quindi il farmacista, lo venderà a 100 euro. Perché mi chiedevo appunto qua si vedono prezzi sugli 800 euro o 500 euro. Esatto, sì. Come fate a farlo così a basso prezzo? Questi sistemi qua sono più che altro dei servizi, cioè loro mettono a disposizione il prodotto e si fanno pagare una fee mensile per il noleggio del prodotto e il servizio. Se si vuole acquistare il prodotto, scusate, il prezzo di vendita è molto molto alto. Quindi sostanzialmente l'utente, il cliente verrebbe legato a un contratto di abbonamento di un certo tipo. E su Made Me ci saranno qualche costo mensile o si paga una volta? Sul prodotto più evoluto, quello di 149 euro che noi venderemo con i 6 mesi di servizio incluso, al termine dei 6 mesi chiaramente bisognerà riacquistare la possibilità di ricevere le notifiche. All'interno del device c'è una SIM sostanzialmente, quindi noi dobbiamo varieggiare i costi di invio dei messaggi al nostro server che poi li rinvierà all'utente per avvisare appunto il caregiver e quindi avrà un costo mensile superati i 6 mesi. Il costo mensile si aggirerà intorno tra i 5 e i 7,50 euro al mese, quindi è anche abbastanza accettabile. Il target di prezzo è stato scelto per rendere questo tipo di prodotto accessibile più o meno a chiunque. Questa è una nota molto importante da dire appunto perché i concorrenti invece hanno dei prezzi molto alti, sostanzialmente questo è il concetto. Bene, grazie. Grazie, grazie anche a Marco. Devo fare una piccola errata codice perché il codice su Slido è E maiuscolo 530. Quindi se qualcuno già ha trovato la sua start up preferita può votarla, potete anche poi cambiare il voto. Quindi se poi nelle ultime due troverete qualcosa migliore potrete ancora cambiare. Adesso compatibilmente con i nostri vicini. Eventualmente interponeremo un attimo se il rumore dovesse non consentire agli ultimi due proponenti di presentarsi. Inviterei qui Alessandro Bonazza di Football Identity. Lasciamo poi le donne per ultime per dare un maggior risalto. Non perché concluderemo poi con un'impresa prettamente femminile. Alessandro Bonazza di Football Identity. Football Identity è un progetto che ha partecipato all'acceleratore Spinlab di Trentino Svilupo. Che è un acceleratore che è una valenza internazionale. E qui oggi però sempre come euro start up. Perché è tra i finalisti che martedì prossimo dalle 2 alle 6 circa si sfideranno nella finale della Star Cup Trentina. Che sarà progetto Manifattura Borgo Sacco a Rovereto. Loro sono tra i finalisti. La Star Cup quest'anno è finanziata da... Promossa da un progetto Interreg Italia-Austria di cui Trentino Svilupo fa parte. Che si chiama Startup Euregio. Che come potrete intuire ha l'obiettivo di creare un ecosistema e farlo prosperare di start up all'interno della macro regione Euregio. Quindi Insuruk, Bolzano e Trento. Do la parola ad Alessandro. Appunto nel caso vedessimo che il rumore magari è troppo elevato per il matrimonio qui fuori. Mentre te interrompiamo un attimo e ti faccio ripartire per non metterti in condizioni. Ricordate quindi il codice E530 con la E maiuscola per votare. Prego. Direi di aprire il pdf così siamo sicuri perché ce ne ho due. Sopra e in alto. Almeno. Esatto. Questo avanti e indietro. Buongiorno, sono Alessandro e vi presento il nostro progetto. Chiunque di voi abbia mai fatto sport in Italia avrà sicuramente avuto una tessera cartacea abbinata quindi ad un database nei quali i dati cambiano in maniera troppo lenta. Siamo nel 2018 e questo non è più possibile. Infatti il mondo viaggia su mobile ed è impensabile che gli enti sportivi non abbiano un sistema di tesseramento che coinvolga in modo attivo i propri tesserati. La soluzione che proponiamo quindi è quella di fornire un token identificativo della persona abbinato ad una piattaforma mobile in modo da rendere il tesserato un attore protagonista e misurare tutti gli aspetti sportivi collegati alle singole prestazioni dei vari atleti. Il nostro obiettivo è quello anche di creare una community all'interno del quale il tesserato si senta un attore protagonista della stessa e desideroso di comunicare con essa. Il funzionamento cambia a seconda dell'utilizzatore finale ad esempio l'atleta avrà la possibilità di controllare il proprio curriculum sportivo e l'utilizzo della piattaforma sarà incentivato attraverso politiche di gamification per i più giovani abbiamo pensato a politiche collegate al fair play i genitori sapranno sempre dove si trova il proprio figlio grazie ad una funzione di parental control la federazione potrà controllare in tempo reale l'andamento delle partite e gli allenatori avranno un grande database di dati di tutti i propri atleti e anche delle stagioni precedenti l'utilizzatore della palestra potrà controllare quali sono i corsi ancora disponibili nella giornata e il gestore della palestra potrà vedere in maniera attiva quali sono gli istruttori e le istruttrici più amati dai propri utenti. I vantaggi per i clienti, per gli enti tesseranti sono soprattutto di due tipi attraverso un database dinamico ci sarà la possibilità di esplorare potenzialità sociali di business ancora in espresse come ad esempio la possibilità di veicolare politiche di marketing sul singolo tesserato inoltre le federazioni avranno la possibilità di gestire un enorme flusso di dati da integrare con i dati provenienti da altre aree come quella medica, dello scouting o della match analysis. In Italia ci sono 44 federazioni sportive che unite ai frequentatori delle palestre portano ad un totale di oltre 10 milioni di potenziali utilizzatori questo dimostra che il modello che proponiamo è fortemente scalabile ed esportabile anche all'esterno dei confini nazionali l'obiettivo per le federazioni sarebbe quello di creare una sorta di CRM come fanno le aziende in logica aziendale per controllare la propria clientela e fidelizzarla l'analisi dei nostri concorrenti i nostri concorrenti sono le stesse federazioni che però gestiscono i processi in maniera antiquata poiché i procedimenti attuali non prevedono un coinvolgimento degli utenti i nostri clienti principali come ho detto sono le federazioni e gli enti sportivi ma in realtà possono essere tutti gli enti che prevedano un tesseramento come potrebbe essere l'università con i propri studenti noi proponiamo un servizio base identico per gli enti minori e un servizio personalizzato a seconda delle esigenze per gli enti più grandi testeremo la versione alfa della nostra piattaforma grazie al consenso di alcune squadre di calcio e arbitri locali mentre testeremo la versione beta grazie al supporto della FIGC che ci ha dato una disponibilità di massima a testarla nei loro centri tecnici federali il punto di forza della nostra idea è il fatto di iniziare a lavorare senza essere negativo poiché gli unici costi sono dati dall'acquisto di token di pochissimi centesimi e le prospettive per il futuro in termini economici sono molto interessanti la nostra idea è nata durante la notte dell'hackathon organizzato dalla FIGC che abbiamo vinto il punto di forza della nostra idea è il nostro team che come potete vedere è multidisciplinare e ben affiatato veniamo tutti da una proveniente da una differente matrice universitaria ma abbiamo una grande passione per il mondo dello sport non solo del calcio infatti sia io che Dario siamo stati arbitri di serie A di tennis se dopo questo pitch foste ancora in dubbio come Willy Wonka in questa foto vi voglio ricordare che la nostra idea nasce da un problema reale poiché è stato organizzato un hackathon apposta e è riscontrabile poiché chiunque abbia fatto sport sa di cosa sto parlando e si è trovato in questa situazione quindi il premio di 2T sarebbe la scintilla per trasformare la nostra realtà in un progetto reale grazie a tutti se avete delle domande stanno uscendo gli sposi velocissima perché un token e non una app collegata magari allo smartwatch qualcosa di più dinamico invece di sostituirlo con un aggeggio che ti devi comunque portare appresso e non è il tuo orologio piuttosto che l'app ce l'abbiamo già per la palestra per dire esatto l'idea del token è soprattutto per i bambini per i minorenni perché mentre se fossero stati solo adulti avremmo potuto utilizzare il cellulare l'obiettivo è quello di creare un coinvolgimento e fare sentire il piccolo atleta un protagonista quindi se gli dai qualcosa anche di piccolo loro si divertono a metterlo sul cellulare dell'allenatore o dell'arbitro a seconda della situazione quindi il token è visto soprattutto per i bambini poi tutto il resto viaggia su piattaforma grazie vedo che alcuni di voi stanno già votando però facciamo vedere solo verso la fine i voti quindi ricordo E maiuscolo 530 adesso siamo all'ultima start up invito Ana a salire sul palco la start up si chiama Wonder Jean lei è Ana Rodriguez Prieto spero che la pronuncia non sia orrenda come sapete non è in italiano è una ricercatrice e adesso parliamo di biotech ed intorni giusto? poi tu saprai dire meglio loro la start up Wonder Jean è in finale della start up di 2T di quest'anno quindi anche lei potrete venirla a vedere il 29 pomeriggio a progetto manifattura se vi farà piacere prego Ana a te parla forte grazie Luca allora buongiorno a tutti appunto sono Ana Rodriguez sono una ricercatrice in ambito genetico oggi vi presento Wonder Jean in Wonder Jean ci occupiamo di analisi genetiche quindi studiamo la molecola del DNA non so se lo sapete però la molecola del DNA in una cellula umana sono due metri lunga in realtà noi non studiamo tutta la molecola non studiamo tutti questi due metri e non studiamo il DNA degli umani di altri organismi quello che utilizziamo è una tecnica che si chiama barcode quindi codice a barre analizzando questi segmenti del DNA quindi non tutto ma certi segmenti possiamo identificare univocamente gli organismi quindi prendendo un materiale biologico utilizzando questa tecnica possiamo dire a che specie animale o vegetale appartiene un campione biologico è come una specie di carta di identità che si presenta nel DNA questa tecnica del barcode è una tecnica che da tanti anni utilizza il mondo della ricerca scientifica in svariati ambiti di applicazioni alcuni sono lo studio della biodiversità la conservazione delle specie selvatiche o è utilizzata anche per prevenire il traffico illegale delle specie selvatiche anche questa tecnica è utilizzata da un po' di anni nel mondo della industria agri-food per fare controllo di qualità per la sicurezza alimentare o per la tracciabilità degli alimenti di solito però nel mondo della ricerca scientifica questa tecnica è sviluppata direttamente dai ricercatori in ambito della industria agri-food per piccole e medie aziende di produzione di alimenti o di trasformazione alimentare loro non fanno internamente queste analisi se non le commissionano aziende terze e perché fanno questo? perché di solito un'analisi genetica si sviluppa in un laboratorio come questo quindi è un laboratorio che ha bisogno di grandi spazi abbiamo bisogno di tanta attrezzatura costosa e di solito queste macchine funzionano anche con dei protocolli abbastanza complessi protocolli e procedure che hanno tanti passaggi e che deve avere un po' di competenza in ambito genetico per capire come azionarli in realtà quello che vogliamo fare noi di Wandergin è rompere questo paradigma vogliamo rendere la genetica accessibile a tutti anche a utenti non esperti in ambito genetico perché un'analisi genetica si possa svolgere in qualsiasi contesto e condizione quindi Wandergin offre due soluzioni la prima è un laboratorio portatile integrato dalle dimensioni di una valigia in ambito un trolley che noi portiamo con noi sopra un aereo queste saranno le dimensioni del nostro laboratorio quindi tutto il laboratorio che avete visto nella foto precedente è incluso nella valigia la seconda soluzione che noi offriamo sono i protocolli quindi le ricette per svolgere queste analisi però che le abbiamo semplificato perché possano essere svolte per gente che non sa come fare un'analisi genetica in questo modo ottenremo risposte appunto genetiche in un modo più facile e anche più veloce vi parlo della ricerca scientifica perché questa idea è nata appunto di una mia ricerca in ambito genetico io dovevo fare analisi genetico in mezzo di una foresta del Congo per studio della biodiversità locale quindi mi sono dovuta portare questo laboratorio con me infatti nella foto potete vedere che grazie al primo prototipo di Wandergin ho realizzato le mie analisi e pertanto alla ricerca scientifica le offriamo la valigia il laboratorio che ha questa caratteristica che è portatile invece per il mondo della industria agrifood che è il secondo nostro mercato vogliamo stradare un modello di business V2V quindi interagire con piccole e medie aziende di produzione di materie primarie e li vogliamo dare un sistema facile di usare la valigia e i protocolli di facile accomprensione in questo modo potranno certificare qualità degli alimenti sicurezza alimentare o tracciabilità di questi alimenti geneticamente aumentando l'accuratezza dei risultati che ottengono vi faccio un esempio questi qua che vedete alla parte sinistra della immagine sono un po' tutti i test che una persona un piccolo produttore potrebbe svolgere con Wandergin vi faccio l'esempio della salmonella sono un piccolo produttore di uova e io devo certificare che le mie uova che sto per vendere non hanno la salmonella prendo le mie uova faccio un tampone utilizzo la valigia e i protocolli disegnati da noi facili da usare e in 5 ore ho una risposta sì o no un sistema semplice con una risposta e una domanda chiusa ma che risolve il problema di un piccolo produttore che deve certificare che il suo alimento in questo caso le uova sono assenti di patogeni il Wander Team è formato da me stessa che me ne occupo dello sviluppo del prodotto e dei protocolli sono appunto una biologa e biochimica e assieme a me in questa avventura c'è Laura Eccel che anche lei è una biologa però si occupa della parte di comunicazioni finanziamenti perché in realtà da più di 10 anni gestisce progetti europei in ambito di ricerca inoltre abbiamo anche dei collaboratori che seguono la parte più ingeneristica mecatronica e sviluppo di software grazie per l'attenzione grazie Anna abbiamo spazio ancora 5 minuti per le domande poi la commissione si riterrà per 4 minuti il pubblico potrà votare online dopo di che la commissione proclamerà la start up la convinta di più la vincitrice adesso spazio le domande grazie se è possibile mi farei una ok la valigia laboratorio con protocolli custom facili da usare eccetera eccetera e fino a qua tutto bene poi ho sentito perché io se ho un ovetto che voglio certificare faccio il tampone uso il protocollo e l'ho detto scusa ma la certificazione almeno da quelli che so io certificazione di prodotto di processo e quant'altro sono diciamo meccanismi abbastanza presidiati dall'ente certificatore cioè dall'ente che poi come si sposa il protocollo custom facile da usare con ahimè una certificazione che normalmente almeno in tanti settori richiede protocolli difficilissimi da usare e quasi si ha perfettamente ragione infatti è uno dei come dire dei principali scogli che noi dovremmo superare l'idea è che noi vogliamo certificare l'insieme sia del lavoratorio quindi del funzionamento di questo hardware che assieme ai protocolli che noi abbiamo semplificato perché si possano capire meglio vogliamo certificare questo perché anche se come dire tutta questa procedura non la svolge un ente certificato ma la svolge direttamente il produttore abbia una validità e questo è possibile ovviamente un lavoro abbastanza come dire impegnativo e costoso per la start up però questa è la nostra idea vogliamo arrivare a che il sistema e i protocolli quindi l'hardware e i protocolli siano certificati perché il risultato questo scontrino che uscirà abbia un valore anche legale tanto quanto come dire i laboratori grossi che fanno queste certificazioni Accredia offre questa possibilità lo puoi fare ovviamente è un investimento economico e soprattutto da parte nostra è un lavoro grosso da fare però ci stiamo chi è che offre questa possibilità? Accredia l'iente certificato italiano puoi fare ovviamente puoi fare la domanda e ovviamente devi compiere tanti requisiti ma si può arrivare sì sì questo vogliamo fare una domanda riguardo il going to market come pensate di vendere modello organizzazione eccetera allora ovviamente sempre abbiamo questa dualità dai due mercati di riferimento la ricerca scientifica questa ovviamente utilizzeremo anche tutto il mio la mia network personale di ricercatori con cui lavoro da dieci anni in ambito tropicale quindi appunto in paesi dove i lavoratori standard non esistono utilizzeremo le grandi fondazioni di conservazione e la biodiversità per approcciarsi e arrivare a un bel numero di ricercatori che lavorano sia in sud America che in Africa invece dalla parte del mercato dell'industria agri-food quello che stiamo facendo adesso visto che siamo in una fase molto iniziale con un primo prototipo stiamo individuando dei piccoli produttori in diversi ambiti che spaziano dai produttori di birra ai produttori di formaggi perché ci dicano anche come dire se questo prodotto fa sì che la sua vita normale di produzione sia molto più facile se come dire accetta questa nuova soluzione la idea è passare fare un salto un po' più grosso e rivolgersi a grandi consorzi di produzione perché adottino questo sistema come un sistema di certificazione standard questa è un po' l'idea avete un'idea del costo di produzione della valigetta non del prototipo ma di quella industrializzata e tu da ricercatrice quanto saresti disposta a spendere per averne una da portare con te allora il costo di produzione nostra a noi ci costa 3.500 euro produrre la valigia il costo di vendita al pubblico sono 6.000 euro a me le attrezzature che sono in quella valigia nel mio laboratorio standard mi costano 12.000 euro quindi sono convinta di comprare la valigia grazie grazie tra l'altro colgo l'occasione per chi fosse interessato abbiamo visto l'ultima presentata un'impresa femminile che è un tipo di impresa che sia la provincia di Trento che la stessa Europa vuole promuovere per chi fosse interessato l'11 pomeriggio in Camera di Commercio vi sarà proprio un evento organizzato sul tema dell'impresa femminile quindi si discuteranno programmi opportunità cosa ancora non va quindi colgo l'occasione anche se non è organizzato a Trento Sluppo ma l'11 pomeriggio in Camera di Commercio se qualcuno è interessato può venire allora adesso inviterei la giuria a riunirsi in Camera di Consiglio per decidere il progetto migliore ricordo che la giuria è formata da due investitori esatto sull'erba la Camera è sostenibile quindi Paolo Fiorini Ivo Contursi Linda Pisani Andrea Saggesi invito a riunirsi avete cinque minuti perché il format impone per decidere la migliore nel frattempo invito i partecipanti a collegarsi su Slido e votare la vostra preferita quindi mettete sul cellulare o sul portatile sul laptop quello lo sostenimento sli.do entrate con hashtag E530 e potete votare un voto solo la vostra start up vi lascio un attimo di tempo per votare i voti stanno arrivando ok ok un attimo Grazie. Riuscite votare? Ok vedo che i voti stanno arrivando. Poi vi faccio vedere se la tecnologia ci aiuta. Allora il vincitore verrà decretato, quello diciamo ufficiale, verrà decretato dalla commissione, però ci interessa anche sapere la vostra opinione perché naturalmente gli esperti votano secondo certe logiche legate proprio alla valutazione del business, però può darsi che magari a voi come pubblico qualche start up sia piaciuta maggiormente rispetto ad altra. Il vincitore vincerà un premio simbolico, avrà una pergamena firmata dal presidente di Trentino Sviluppo, un ombrello del Polo Meccatronica e due magliette del Polo Meccatronica. Come sapete il Polo Meccatronica e il progetto Manifattura sono due iniziative di Trentino Sviluppo, anche queste finanziate in combinazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Quindi vedete quanto l'Europa poi nella vita quotidiana influisca sulle nostre vite e anche sul mondo imprenditoriale. Avete votato tutti? C'è qualcuno che non è riuscito a votare? Alzi la mano se qualcuno è riuscito a votare o non. No, avete votato tutti? Allora vediamo se riusciamo a mostrare i risultati. Non so perché questo non funzioni, ma... Però sostanzialmente Carborem sembra triunfare col 40%, seconda Medime, seguono a ruota Trentino, Rainbow Energy e Wind City. Naturalmente siccome alcuni magari non hanno visto tutte le presentazioni, il voto va preso con una certa leggerezza, nel senso che magari non è detto che... Siccome ho visto che Carborem aveva parecchie persone familiari, magari tutti hanno votato. O non hai votato per tuo marito forse, non hai votato per un altro, molto male. Allora a casa fareti i conti. Complimenti a Carborem che adesso avrà sei mesi di tempo con il SIDMONEY per procedere con un prototipo e poi se riuscirà, in approfitto per dirlo, a trovare anche degli investitori privati con i fondi FES, Trentino, darà una quota fino a 100.000 euro pari a quelle degli investitori. La commissione, vediamo un po', sì. Dove sono andati che io non l'ho visti? Dove sono... Ah, forse nel... no. Se voi si fossero aggregati al matrimonio, perché allora non li avremo più rivisti. Ecco. Eh? Voi vi siete aggregati al matrimonio, sì. Ecco, per chi volesse, per fare un po' di pubblicità, negli stand che vedete qui sul mio lato destro vi sono tutta una serie di progetti europei, vuoi di Trentino Sluppo ma vuoi anche di altri enti trentini e quindi se volete fare poi un salto potrete vedere altre iniziative che sono state promosse grazie ai fondi dell'Unione Europea e potrete vedere, diciamo, effettivamente l'efficacia di questi interventi. Aspettiamo il tempo tecnico che rientri la commissione. Sì, credo che la registrazione, se non sbaglio, venga messa sul portale, giusto? Vedete che vado a chiedere ai tecnici, così. Diretta streaming è proprio sul sito Facebook di Siamo Europa, esatto. Quindi per chi vorrà rivedersi potrà trovare i filmati su Siamo Europa. Vedo che stanno discutendo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Dovete approfittarne, per chi è interessato, perché ormai la programmazione è in via di chiusura, stiamo per iniziare la 20-27, quindi stiamo per finire la precedente programmazione e quindi questi sono gli ultimi bandi per startup che usciranno, salvo qualche residuo per qualche bando lampo nel 2019, però probabilmente questi sono gli ultimi. Mi sono appunto in ballo con 4 milioni di euro, quindi parecchie startup potranno partecipare. Dovete guardare se rientrate nelle caratteristiche, ha una retroattività al bando di 30 mesi, quindi è anche un bando che va a cogliere startup non proprio neocostituite, ma che sono da un po' di tempo sul mercato. Andate a vedervelo perché potrebbe essere di vostro interesse, anche questo è fatto con fondi europei di sviluppo regionale, quindi anche questo è grazie a soldi della Commissione Europea. C'è un volontario che va a chiamare la Commissione. Stanno dibattendo, quindi evidentemente c'è proprio indecisione. Il pubblico è stato più determinato. Poi c'è me di me, poi faccio vedere. Purtroppo la visualizzazione del schermo intero, non so per quale motivo tecnico non riesce a visualizzarla, c'è questa però. Poi c'è Wind City, fa rimedito con Trentino Rainbow Energy, e poi seguono Wonder Gene, KMB Lab. È stata un po' penalizzata la startup ICT, oggi però in effetti l'ICT era rispetto spesso alle competizioni delle startup, era un pochettino più in tono minore, nel senso che in genere ci sono molte startup ICT, oggi avevamo molto hardware, quindi forse l'hardware ha affascinato di più, perché magari è anche più difficile incontrarlo nelle competizioni startup. Cosa hanno detto? Nulla. Nulla. Stanno ancora votando. Ok. Ah ok, ok. 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 Allora facendo una cosa si fa in televisione, mentre si aspettano i voti, voglio chiamare qualche startup qua a dire che cosa ne pensa diciamo dell'uso di fondi europei, che sono da un lato una grande opportunità, dall'altro hanno dei vincoli, delle regole che sono molto molto rigorose, a differenza dal triple fondo, quindi in qualche modo anche impongono il startup di dover rendicontare in modo anche pesante, proprio perché mi sono tre livelli di auditing che poi controllano le fatture, le controfatture. Allora chiamerei magari chi ha fatto il SINMAN il 2009, in cui forse i controlli erano ancora molto light, per dirci la sua esperienza con i fondi europei, e dopo magari chiamerei qualcuno un po' più recente, che invece sta subendo più, vuoi venire tu a dire qualcosa? Cosa ne pensi diciamo di fondi europei nella tua esperienza di azienda? Grazie Luca, per l'esperienza aziendale la possibilità di accendere a fondi europei è sicuramente stato un plus importante per dare la spinta iniziale, effettivamente il rapporto dopo per la rendicontazione e quant'altro non è stato per niente semplice, col supporto di Trentino Sviluppo siamo riusciti comunque a avere un ottimo riscontro e a chiudere in regola tutto, tuttavia se non ci fossero realtà provinciali anche che danno una mano nella gestione iniziale dell'azienda, nella rendicontazione, nell'aiuto della parte economica e quant'altro, diciamo che sarebbe particolarmente complicato, come si può vedere sui bandi europei di altro tipo, anche sempre per la ricerca e sviluppo, ma che sono gestiti direttamente a livello europeo, è complicatissimo e servono degli uffici preposti proprio per la rendicontazione, a livello provinciale siamo fortunati ad avervi insomma, grazie Luca. Grazie ti devo un caffè, chiamerei invece KMB Lab che invece sta sperimentando i fondi diretti europei, nel senso che loro appunto hanno vinto un esame instrument che sono fondi che direttamente la Commissione europea dalle start up, e quindi vedo che sta arrivando la Commissione però una parola, come ti stai trovando? Tu sei nel mezzo del cammino, ma con la burocrazia europea dici cose positive e cose negative. Allora, per ora in realtà ho poche cose da dire perché siamo all'inizio, il progetto parte il primo giugno, e quindi per ora la nostra esperienza si limita proprio al fare la domanda e avere le comunicazioni dei risultati di fatto e il lavoro della Commissione dal punto di vista formale dell'organizzazione del progetto. Per ora siamo molto contenti perché abbiamo vinto questo SME Instruments con la seconda prova e devo dire che abbiamo fatto due prove in quattro mesi e in sei mesi abbiamo avuto il risultato. Cioè l'iter è stato molto veloce e molto efficiente, quindi per ora è questo. In fondo a questi strumenti per le piccole e medie imprese la Commissione europea ha cercato anche di renderle un pochettino più semplici, proprio perché quando parliamo di grande realtà, centri di ricerca, università sono abituate a partecipare a questi fondi, hanno una struttura amministrativa molto corposa che li aiuta. Quando parleremo di start up o piccole e medie imprese potrebbero essere anche gravate eccessivamente questi fondi. Quindi fortunatamente l'ESEMI Instruments abbiamo notato che è uno schema che è veloce nel dare le risposte e anche la rendicontazione, per esempio nella fase 1 che loro hanno vinto praticamente ti danno un 50.000 euro flat in cui devi di fatto consegnare un rapporto alla fine e non stanno a tartassarsi sulle ore di viaggio su queste specie. Quindi sono strumenti che hanno cercato di rendere, sburocratizzarli rispetto a strumenti che c'erano negli altri programmi a quadro che invece erano diventati molto burocratici, di fatto facevano sì che le piccole e medie imprese fossero delle mosche bianche nella partecipazione. Tanto mi ricordo quando lavoravo al centro di ricerca Fiat, si usavano nei progetti, si invitavano sempre le solite PMI che erano abituate a questi progetti europei, in qualche modo andavano da quelle 4 o 5. Perché se avesse dovuto cercartene qualcun'altra che partecipasse all'accordata era difficilissimo. Quindi fortunatamente questi strumenti si stanno via via velocizzando e inoltre danno la possibilità alle nostre start-up, alle PMI, di avere pubblicità a livello europeo. Questo è un altro importante. Oltre ad avere i soldi, questi strumenti anche vogliono pubblicizzare, promuovere chi li ha vinti. Quindi consentono alla PMI, alla start-up, di elevarsi al di sopra il proprio territorio, essere conosciuta e quindi avere ulteriori opportunità di altri finanziamenti privati. Adesso mi ritaccio perché vedo che la commissione è arrivata, quindi immagino abbia selezionato un vincitore che, ripeto, vincerà due magliette del polo meccatronica, è un premio simbolico naturalmente, un ombrello, una chiavetta polo meccatronica e soprattutto una pergamena che gli darà l'imprimator dei miglior start-up di questa pitch battle. Do la parola a Linda, credo che tu sia la portavoce. Grazie. Allora, abbiamo preso in esame la presentazione, la credibilità e la fattibilità del progetto e il team, la sinergia e la sintonia della squadra. Devo dire che le donne si distinguono sempre, va bene, e lo dico anche da donna. Allora, ci è piaciuto molto, andiamo subito con i vincitori e vi diciamo soltanto i primi tre. Kiss My Bike ha vinto, ci è piaciuta molto la presentazione, abbiamo dato una votazione da 1 a 5, la presentazione ha avuto un risultato di 5, 5 punti il massimo, credibilità e fattibilità del progetto 4-5, dal 4 al 5, quindi crediamo che anche il progetto possa avere un futuro. E il team 4, ci siamo. Al secondo posto, Wandergy, il kit per analisi genetiche, la presentazione ci è piaciuta molto, qualche perplessità, siamo andati con un 2, sulla credibilità e fattibilità del progetto per le difficoltà che ci sono innegabili nell'entrare in un mercato veramente complicato, soprattutto per l'agri-food e il team ha un bel 4 anche per la squadra. Al terzo posto, Carbone, gli impianti industriali per il recupero dei rifiuti, la presentazione è stata molto bella, è interessante, abbiamo dato un bel 4, credibilità e fattibilità del progetto 3 e il team 3. Ci fermiamo qua, se no ve li raccontiamo tutti, ditemi voi che cosa volete fare. invito la vincitrice, quindi Nadia Bobova, rappresentanza del suo team, a ritirare il ricco premio. e poi invito tutti a venire, tutti gli start-up, noi qua per fare una foto di gruppo, tu ci fai la foto di gruppo, vero? Grazie. Anche i commissari li invito a venire a fare la foto di gruppo. Sì, è giusto, prima la vincitrice, dai. E te l'ombrello? Forse questo te lo do, te lo do dopo. Grazie. 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 Grazie a tutti